In redazione con noi abbiamo Maurizio Manfredi, presidente ANMIL Piacenza. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, la ringrazio dell'intervista. Salute e sicurezza sul lavoro sono stati tra i temi principali della festa del 1 maggio 2024. In Italia si parla di emergenza su questo argomento. Com'è la situazione nel Piacentino? Sì, la situazione nel Piacentino gli infortuni sono aumentati, però dobbiamo praticamente per trovare un obiettivo comune che tutti facciano qualcosa e quel qualcosa che facciano tutti dovrebbe diventare il tutto per tornare a casa dal lavoro ogni giorno, sani e salvi. Quindi la variante dovrebbe essere questa la variabile per poter trovare un miglioramento in questa situazione. Va costruita una cultura sulla sicurezza sul lavoro? Esattamente. Noi andiamo anche nelle scuole a portare le nostre testimonianze che la cultura serve tantissimo, perché in Italia abbiamo tre morti al giorno, ma se vediamo negli altri paesi, in Bulgaria e in Romania sono sette e quindi è un'altra cultura. Se andiamo in Germania, se andiamo in Paesi Bassi è di un morto al giorno. Mentre noi in Italia sono vent'anni che abbiamo la stessa situazione, quindi mille, millecento, mille duecento morti all'anno, dobbiamo cambiare qualcosa, perché tutto questo benfare non ha portato efficacia. Fino negli anni 60 erano dieci morti, abbiamo abbassato molto i morti, è andato molto bene, passi da gigante, però poi sono vent'anni che è in una fase di stallo. E quindi è un tema molto importante perché ogni giorno in Italia, tutti i giorni dell'anno, abbiamo 2.000 infortunati sul lavoro. Le denunce sono 2.000 in Italia al giorno. La tecnologia o le tecnologie, l'intelligenza artificiale potranno essere d'aiuto in futuro su questo tema? Potranno essere d'aiuto, però deve essere sempre anche il lavoratore, deve essere cosciente, consapevole di quello che sta facendo e deve preservare la sua, prendersi cura della sua persona, ma anche quella degli altri e vedere gli elementi, tutti i rischi che sono nell'ambiente di quel lavoro che sta facendo. Che rischi si possono correre, ma anche l'ambiente stesso dove lavora, le polveri e dove sta lavorando. Prendersi cura anche degli altri. Quindi bisogna analizzare bene i rischi. Quindi succede che spesso pur di lavorare si accetta di tutto? A volte si è di fronte a un bivio. O si lavora, accetta queste condizioni, o se no praticamente non diamo da mangiare ai figli. Però bisogna fare qualcosa per migliorare la situazione per tutti. E dobbiamo parlarci anche fra amministratori, istituzioni, lavoratori, imprenditori, tutto quanto, perché dobbiamo migliorare, migliorare ancora tante cose. Maurizio Manfredi, presidente di Anmil Piacenza, ospite di Radio San Piacenza 24. Noi la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro. Grazie tanto a tutti voi. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.